I vaccinati anti-Covid nel mondo. Sistemi assistenziali Covid. Italia, Francia, Irlanda. Processo ad un regente di polizia americano per omicidio. Cari amici, buongiorno e benvenuti al nostro telegiornale. Quest'oggi iniziamo dall'argomento vaccinazioni. Malgrado problemi di consegne, disponibilità e priorità, le vaccinazioni anti-Covid sono in atto in gran parte del mondo. Finora almeno 153 paesi hanno iniziato a vaccinare i loro cittadini e hanno somministrato almeno 664.519.000 dosi del vaccino. La piccolissima Gibilterra figura in testa nella classifica delle percentuali di vaccinazioni col 90% sulla popolazione. Bassa la percentuale di vaccinati del 16,4% nell'Unione Europea, anche se in Gran Bretagna i vaccinati sono il 52% della popolazione. Italia e Irlanda vanno in parallelo con il 18% ciascuno. A parte le vaccinazioni, esaminiamo velocemente la situazione assistenziale per coloro che hanno perso il lavoro dovuto alla pandemia. In Italia i dati su questo tema sono difficili da interpretare, anche se si è capito con il beneficio di inventario che si parla di un'assistenza che varia dai 400 agli 800 euro mensili. In Irlanda, invece, paese che goda di un sistema assistenziale snello e meno faragginoso, chiunque abbia perso il lavoro a causa della pandemia, percepisce già da un anno un assegno Covid che va dai 300 a 350 euro settimanali. E abbiamo sentito un amico dalla Francia su questo argomento. Ciao Concetto, qui in Francia esiste un sistema assistenziale ottimo. Per farti un esempio, io che non lavoro dal marzo 2020, percepisco un assegno pari al 70% del mio stipendio lordo, che equivale all'84% del mio stipendio netto. Quindi, come vedi, sembrerebbe un sistema anche migliore di quello irlandese. Tra l'altro, la situazione pandemica qui in Francia non è tra le migliori. Ci sono ancora molti casi, molti contagi e la campagna di vaccinazione purtroppo va a rilento. E addirittura, da sabato scorso, molti negozi sono stati chiusi. Resteranno chiusi fino al 2 maggio, in attesa del nuovo discorso del Presidente Macron o del Primo Ministro Castex. E addirittura i ristoranti qui in Francia sono chiusi dallo scorso ottobre. Lavorano solo da asporto. E noi qui siamo, c'è un copifuoco nazionale alle 19. Giusto da alcune settimane, fino a un paio di settimane fa, era fino alle 18. Passando ad altro, parliamo del processo dell'anno che si sta svolgendo a Minneapolis, in America, contro un agente di polizia ritenuto responsabile della morte di un soggetto arrestato. In questi giorni il canale TV americano CNN trasmette in diretta le varie fasi del processo per milioni di telespettatori, specialmente nei paesi di lingua inglese. In dettaglio si tratta di questo. Il 25 maggio dell'anno scorso, nella suddetta città, un muscoloso negro 46N di nome George Floyd entra in un negozio per acquistare qualcosa e paga con una banconota di 20 dollari ritenuta falsa dal proprietario del negozio. Al che viene chiamata la polizia, che fuori dal negozio arresta il Floyd, che si era già infilato nella sua auto. Il sospettato resiste all'arresto, per cui viene con molta difficoltà ammanettato e costretto a pancia in giù sulla strada. Uno degli agenti, per immobilizzarlo, lo tiene bloccato al collo con il suo ginocchio occludendogli le vie respiratorie per nove minuti, non accorgendosi che il Floyd, dopo aver gridato più volte non respiro, perde i sensi e viene subito dopo dichiarato in fin di vita se non già morto dall'intervenuto servizio di emergenza. Questo grave incidente ha a suo tempo suscitato e continua ancora a suscitare in sdegno da parte della popolazione americana e nel mondo, in special modo tra le comunità di colore, per aver esagerbato i risvolti razzisti della brutalità della polizia americana. L'agente in parola, il 45enne Derek Chauvin, fu licenziato dal Corpo di Polizia di Minneapolis 48 ore dopo l'avvenuto ed è ora processato, accusato di omicidio. Il processo, ancora in fase di deposizioni, è destinato a durare per qualche tempo. Questo è tutto per oggi e arrivederci al nostro prossimo appuntamento.